Per parlare del PNRR, lei è stato ministro dell'economia e avrà ovviamente visto e letto le polemiche per il cambio di governance che questo governo ha scelto di fare, spostando su Palazzo Chigi, togliendo poteri al MEF, cambiando anche quasi tutte le persone e questo viene criticato non tanto per le persone emesse ma come un rallentamento sulla tabella di marcia. Lei che idea si è fatta? Comunque il PNRR del governo Conte 2 prevedeva una cabina di regia più a Palazzo Chigi? Era più simile a questo? Guardi, io facendo il sindaco non vengo meno al mio ruolo politico e quindi sono pronto a fare l'opposizione, a parlare di tante cose. Sul PNRR mi avvalgo la facoltà di non rispondere per una ragione molto semplice. Noi abbiamo ottenuto, e questo è un merito del governo di cui ho fatto parte che spesso viene smarrito sottovalutato, il più grande piano di investimenti del dopoguerra, finanziato dagli euro, si dice che è stato un errore. Questa è una delle cose più comiche, che abbiamo sbagliato a farci dare troppi soldi, questa è una cosa straordinaria. Abbiamo ottenuto un piano straordinario finanziato con gli eurobond, che era una cosa che non si poteva neanche dire in Europa e noi siamo riusciti a convincerli con altri a fare gli eurobond. Abbiamo un'opportunità unica per l'Italia ma anche per l'Europa, perché se poi non spendiamo questi soldi ti diranno adesso basta eurobond, basta politiche comuni. Quindi adesso non è il momento del dibattito stereografico su dove si è sbagliato, adesso è il momento che tutti devono lavorare per mettere a terra questi soldi. Io in generale non sono favorevole a grandi cambi in corso d'opera, però sta alla valutazione del governo capire cosa è la cosa migliore. Adesso la cosa importante è che l'Europa ci ha dato una scadenza che è bene che non si arrivi proprio all'ultimo momento, perché poi non si ha più tempo per cambiare qualcosa e per dove i soldi si mettono a terra metterli e magari incrementarli, dove c'è un rischio di perderli, toglierli e spostarli in un'altra parte. In più ci hanno dato 2 miliardi e 7 in aggiunta per il Repower EU, per la transizione energetica. Quindi adesso bisogna non sbagliare questo passaggio, perché se si sbaglia, se si fa bene la revisione e si mettono risorse dove le risorse possono essere spese, dove sono utili naturalmente, e questo bisogna fare anche attenzione e pensare che si possa limitare a dare risorse a società pubblico-privata per la precisione. Ci sono grandi investimenti, per esempio noi, Roma, ma anche altre città, che stiamo rispettando la tabella di marcia, noi saremmo in grado di fare l'efficientamento energetico delle case popolari. Abbiamo già i progetti, saremmo in grado, io ti faccio 60 licei di Roma che oggi non sono in grandi condizioni, te li rimetto a posto, ci metto i pannelli solari, perché stiamo facendo lo stesso su altre 300 scuole. Quindi ci sono casi in cui delle filiere stanno tirando, già ci sono i progetti e con una rimodulazione intelligente non si spregano soldi e si coglie questo portiere. Adesso siamo in un momento così delicato che il dibattito su qual cosa era migliore lo faremo dopo, quando vedremo i risultati. No, Merada, era al fine dei risultati. Ho altre due domande per lei su Roma, una riguarda questa grande polemica sullo ZTL, cioè l'estensione delle ZTL alle periferie, quindi con grave danno per chi non ha le macchine adatte. Grande protesta. Sì, allora, spiego di cosa si tratta e poi spiego anche quello che stiamo facendo per migliorare e modificare questo provvedimento. Qui stiamo parlando di qualità dell'aria. Ci sono dei limiti di legge di qualità dell'aria, cioè Roma, come tante altre città, supera i limiti del diossido d'azoto e delle polveri sottili e siccome ci sono dei limiti di legge, le regioni che applicano poi questi limiti dell'autorità dell'aria dicono alle città di togliere dalla circolazione certi veicoli, perché poi sono i veicoli che fanno aumentare il diossido d'azoto, eccetera. Alcuni provvedimenti che mi imputano già c'erano, in questo senso chi mi ha preceduto è stato un genio italico, nel senso ha svietato la circolazione, i veicoli fino all'euro 3 diesel e fino all'euro 2 benzina, ma non l'ha applicato. Per cui alcune cose che dicono qualtieri non fa circolare gli euro 3 e gli euro 2, questa è una delibera di Virginia Raggi del 2019 che c'è sulla carta dal 2019 e però nessuno l'ha applicata, in questo modo si è guadagnato tempo, ma poi ovviamente gli organismi che monitorano la qualità dell'aria dicono sì, ma tu stai superando i limiti, quindi devi togliere come fanno tutte le città d'Europa, come stanno le città d'Italia, del nord Italia, eccetera, eccetera, i veicoli più inquilanti non possono circolare, che non è la ZTL, la ZTL è nel centro che non si può proprio entrare, se non si è residente, è una cosa diversa. Certo, però non ci sono delle zone più estese. Sì, sì, no, questa è una zona che anche questa si è stata definita come la zona... Però c'è il fatto sta che c'è la rivolta delle periferie e anche una lettera dei verdi e di sinistra, degli alleati. Allora, questa delibera che è stata fatta a novembre è stata fatta in ottemperanza delle richieste della Regione Lazio, degli uffici della Regione Lazio, dell'assessore all'ambiente allora che era Roberta Lombardi, che sulla base dei dati scientifici degli uffici ha detto, siccome voi siete violando i limiti dell'aria, se non volete essere sanzionati, e noi anche siamo sanzionati, dovete togliere la circolazione, addirittura loro ci avevano chiesto di togliere fino agli Euro 5, pensi, quindi è scritto articolo 24, norme tecniche di attuazione regionali del 25 ottobre 2022, quindi c'era scritto a Roma non possono circolare né la fascia verde, i veicoli fino a Euro 4, questo è avvenuto dell'ottobre. Noi quindi abbiamo fatto subito la delibera in ottemperanza a quello che la Regione ci diceva di fare e a sua volta, ripeto, al netto che forse la Lombardi ci ha messo sul plus di zelo, Erano lo faceva anche sulla base dei dati degli uffici, degli scienziati che misurano le centraline e dicono voi, avete troppo biossido d'azoto, fa male, fa venire il tumore ai polmoni, se no vi condanniamo e vi arrestiamo, dovete abbassare i limiti, togliere i veicoli che inquinano perché i veicoli vecchi, basta vedere una tabella, emettono molti di più di queste polvere. Quindi noi abbiamo fatto subito una delibera che rispettava quello che ci veniva chiesto e vorrei dire imposto di fare, però abbiamo anche introdotto, chiesto alla Regione di scrivere una clausola di revisione che dice che se noi siamo in grado di dimostrare di una riduzione equivalente dei fattori inquinanti possiamo cambiare questi limiti, che tra l'altro alcuni erano già in vigore dal 19 come ho già detto, quindi noi ci siamo messi, appena sono arrivati i nuovi dati sulla qualità dell'aria dei primi mesi dell'anno, ci siamo messi già da un mese, un mese e mezzo al lavoro per rivedere questa delibera, perché io sono pienamente consapevole del fatto che se non si fanno le cose all'italiana, cioè si scrivono le cose sulla carta, ma poi non si ha più, per cui una persona ha una macchina, Euro 1, non può circolare al 2019, ma siccome sa che non gli fanno la multa, la usa lo stesso, questo è un metodo all'italiana. Molto romano. Se invece a un certo punto l'Italia diventa un paese in cui se è un veicolo un po' circolare, effettivamente un po' circolare, questa cosa proprio perché siamo stati alla Romana per molto tempo, questa cosa ha un impatto enorme. Tante persone che non si erano rese conto si rendono conto che il loro veicolo non può circolare e questo è un problema soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, quindi io mi sono messo al lavoro e ci stiamo lavorando H24 e ho scritto anche al Presidente Rosa per rivedere questa delibera e evitare che ci sia un colpo sulle persone che non si possono permettere questo. Non voglio anticipare i risultati di questa revisione, che è una revisione significativa, quindi mi permetta di dire alle persone di essere tranquille e di farci lavorare e di darci tempo di proporre e di presentare questi cambiamenti che penso saranno significativi. Faccio solo un esempio, è stato detto che il GPL per esempio non potrà circolare, questo non è vero, il GPL potrà circolare e stiamo lavorando con modo molto attento, io ho imposto, ho chiesto anche tutti gli uffici tecnici, gli scienziati, quelli che fanno le misurazioni, di rivedere completamente il modello e di fare qualcosa che non scarichi un costo non sostenibile su chi non se lo può permettere e le assicuro che lo faremo. Sì, abbiamo veramente un minuto, i rifiuti e il termo valorizzatore, mi sembra che resti la questione alla fine nazionale. Su quello noi siamo sicuri, non ci sarà una soluzione alla romana, perché sulla ZTL mi sembra di vedere, prospettarsi una soluzione alla romana. No, sulla romana è quella che ci sarà fino adesso. Su rifiuti anche qui, si è pensato che a Roma, siccome è Roma, si poteva non avere nessun impianto e buttare i rifiuti in una buca, poi la buca non funzionava più, che era malagrotta e si poteva stare senza impianti perché siamo romani. A un certo punto i rifiuti sono cominciati a accumularsi sulle strade e quindi noi abbiamo deciso di fare quello che è una cosa normalissima in tutte le città d'Italia e d'Europa, cioè fare i vari impianti e un termo valorizzatore. Il termo valorizzatore non lo ama ma dice che è stato deciso senza la mia responsabilità però non accetto. Vorrei ricordare che una mozione parlamentare contro il termo valorizzatore è stata respinta a modo quasi plebiscità al Parlamento, quindi questo, che tra l'altro non era neanche vincolante, quindi non l'avrei fatto comunque, però ho il conforto di quattro quinti del Parlamento della Repubblica e quindi con ancora maggiore... Quindi si farà, il termo valorizzatore siamo tranquilli, io e Alessandra Sardoni siamo tranquilli. Il termo valorizzatore si sta... Ma Shalai, il fatto che a Shalai non piaccia... Il fatto che a Shalai non piaccia... Le opinioni personali che poi sono tutte da vedere, perché tutte diciamo, è stata molto prudente ad esprimere la posizione perché è una persona seria che vuole approfondire i dossier, ma le ripeto, il Partito Democratico ha respinto la mozione, il Movimento 5 Stelle e quindi dice lei i fatti. Benissimo, grazie a Roberto Gualtieri, grazie a Maria Teresa Meli, ovviamente a voi che ci avete seguito, buona giornata, a domani.